11 anni di agenzia, anche un altro anno è andato Dietro questa scrivania, i successi del presente e del passato I bilanci sono numeri nel tempo, non raccontano l'impegno e il sacrificio Tra le mura di cemento di un ufficio, tra i suoi mille segreti Le foto alle pareti, i sogni e desideri ancora in piedi Perché non ci si può fermare adesso, Realize Networks Questo Natale sarà diverso, le voci dei bambini mi sono d'ispirazione Le luci e di colori mi suggeriscono il nome, Milano in questi giorni è un gran caos Io chiaro, who's the next? Santa Claus Ragazzi, un attimo d'attenzione, mi è venuta un'idea Dobbiamo trovare prima di Natale, Babbo Natale Oh, sono serio? Sono serio? Ok, via, al lavoro Voglio sapere dov'è Voglio sapere dov'è Babbo Natale Fanico tra i reparti in open space, tipo Mayday Sudano le giacche dei sales, stile Emirates Mentre scattano i selfie con gli elfi, quelli del digital E ci ha scritto a profili da una notifica Instagram L'amministrazione in posizione d'attacco Mentre l'e-commerce ispezione ogni pacco col tacco Ufficio stampetta con 12, ricava codici dalle riviste Il team è 26, 28 e tre le piste Il centralino fonde, si chiama profusione Sguardi, terzi, dubbi e perplessità Ma non c'è soluzione, dicono le persone Nessuno l'ha mai visto in città Voglio sapere dov'è Voglio sapere dov'è Voglio sapere dov'è Babbo Natale Voglio sapere dov'è Voglio sapere dov'è Voglio sapere dov'è Babbo Natale Sera di vigilia Ho perso le speranze Rimasto solo in queste stanze Nulla da fare Forse davvero non esiste questo Babbo Natale O forse come cercare una goccia in mezzo al mare Come bonomo in fondo in volo Sentire il mondo in poco meno di una sera Lavorando insieme e non restando da solo Potrebbe accontentare la galassia intera Non può essere più O percettare il mondo in piacetino Di soli di coli O percettare il mondo in poco meno di più Grazie a tutti